Salve a tutti, sono Mr. Antonietro e oggi faremo la prima missioncina degli scarafaggi nella Gilda, nel bosco della Gilda, raccolto un po' di mele intanto, ok qua c'è il maestro non andiamo diretti, il bello che adesso dice, come lo dice, devi usare il tuo bastone, devi usare il tuo bastone, vai morito, mori, 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 scarafaggi Dukaz, ottimo, ho finito la missione, sto andiamo indietro dal maestro della Gilda, bel lavoro amico, gli scarafaggi sono morti tutti, puoi uscire dalla foresta ora, va bene, mo' torno, su ostia, oh si sono visti gli fps in alto, 18, ottimo, quegli scarafaggi sono davvero insopportabili, ecco, credo che ti sia guadagnato qualche spicciolo, se ti interessano monete extra, sono certo che i servi gradirebbero un po' d'aiuto, potete entrare in tarda serata, quando siete pronti per dormire, cercatemi. Continua a curarti con un bambino, vieni pure da me quando ti senti pronto, sembri stanco, ma fa culo, ok, noi adesso la cogliamo tutte le mele, cerchiamo se ce ne sono altre, dovrebbe essercene una lì vicino alla cesta, ok, un'altra qua, no, lì non ce ne dovrebbero essere, torniamo al... andiamo da una che, vabbè, facciamo una torta che è unica, di senso è solo quella, dai, Dai Grazie, grazie mille, ecco, prendi questo Tanto vediamo un attimo di rubare un po' di robe, dai, ostia, sono tutti vuoti, secondo me, questi, visto che... Secondo me sono tutti vuoti Grazie mille, eroe Penso di tagliare che tanto... Perché più oltre adesso vado a piarmi i libri, I libri serviranno per una quest secondaria... ...veloce Ok, sono andato a sorrubare tutti i libri, sono tornato indietro, Continuiamo l'addestramento, va, due cazzo del maestro della gilda... Aspetta, però ho visto un pallino verde di qua che non ho mai visto... La durata del viaggio non ha alcuna importanza... Questo è falce... Deve essere difeso... Come puoi esserne così sicuro? Qui potremmo avere bisogno di te, chissà quali battaglie ci attendono... I segni sono troppo evidenti per essere ignorati... E le distese settentrionali sono isolate dalla gilda, ormai da troppo tempo... Lì potrei scoprire molte cose... Spero che nessuno pensi che voglia sottrarti alla battaglia cercando di eludere di nuovo la morte... Sai come si spargono le voci... Oh? È già morto? Infatti... Cosa stai aspettando? Entra! Quello era falce... Un tempo era un grande eroe... Quando il suo corpo era fatto di carne e nelle sue vene scorreva sangue... Ora è solo un guscio vuoto... Cosa ne sa delle scelte che dovremmo compiere... Delle cose che bisognerebbe fare? Ok, torniamo... Qua non c'è niente da rubare... Ah sì... Storia della gilda... Jack di spade... Questa... Niente da... Andiamo... Io ce l'ho... Scusate per la cosa... C'è stato un problema in casa... Allora... Andiamo avanti... Affendiamolo... Facciamo il destrumento lì che diceva lui... Quindi adesso ci sarà un video... Vi dico già adesso per questo video è tutto... Lasciatemi un mi piace... Commentate... E al prossimo video... La vita del ragazzo ora era la gilda... Il ricordo delle fiamme di Oakvale... Dilaniava ancora la sua mente... Ma ben presto l'addestramento divenne il suo unico pensiero... Ed egli diventò sempre più forte ed agile col passare degli anni... Passava i giorni facendo esercizi estenuanti... La notte sui libri... In biblioteca... Divenne quindi un apprendista della gilda... Proprio come predetto da Denaro... Cominciava il vero addestramento... E a tutti... La notte sui libri...